In una fase iniziale della mia vita, quando ero giovane, avevo scelto di donare bellezza a un territorio della Sicilia, tra Santo Stefano di Camastra e Tusa, donando questo grande parco di scultura monumentale che si chiama Fiume alla Darte, delle opere che nascevano per restituire al territorio una sacralità in nome dell'arte, della bellezza, opere d'arte costruite in cemento armato che al tempo stesso assumevano la dimensione di quell'essere tempio, un tempio anche come presidio, un presidio etico rispetto a una società che quando io ho iniziato il progetto, parliamo degli anni Ottanta, era una società che già manifestava il suo malessere, una società che sceglieva più il codice dell'apparire che del valore di essere, una società costruita sul consumismo, dove la cultura proprio in quel periodo veniva rappresentata con un modo che sicuramente come percorso la negava, una rappresentazione di bellezza negandola, questo siamo stati anche nella mia generazione il figlio di un percorso che non ha prodotto futuro, oggi in questo momento, in questa contemporaneità, la mia vita, la mia scelta è soprattutto adesso di necessità, adesso c'è necessità di restituire valore, codice alla nostra società, ai nostri figli, ai giovani, bisogna ricodificare il valore del futuro, non si può parlare di futuro senza il valore della conoscenza, ecco in questo momento, ecco io ho cambiato la mia storia, la mia vita, perché penso che rispetto a questa necessità bisogna restituire, parlare in questo momento oggi di cultura significa parlare di restituire, restituire per rigenerare, nella rigenerazione che si può coniugare quella parola di futuro, che invece è un potere occulto, un potere del nulla, un potere del male, ecco lo sta negando ai propri figli, assistiamo ogni giorno a un genoscidio della conoscenza, l'Italia, un patrimonio dell'umanità per la sua storia, per la sua cultura, indegnamente in questa contemporaneità ha deciso di distruggere la conoscenza partendo dalla scuola, se noi pensiamo al genoscidio culturale che c'è in atto in Italia, nello Stato italiano, di questi assassini e barbari, perché bisogna chiamarli con nome e cognome, assassini e barbari, perché loro quando distruggono la scuola e non insegnano a scuola più la storia dell'arte e l'educazione civica, quando noi i nostri figli non li educhiamo più nell'essere bello nell'essere buono, ecco quale futuro coniughiamo? Con la passarella del nulla, con la rappresentazione del nulla, allora per esempio bisogna lottare affinché la scuola ritorni a essere un tempio di conoscenza, un presidio di conoscenza e lo Stato se continua in maniera strategica a distruggere questo tempio della conoscenza, distruggendo proprio l'educazione dei propri figli, non insegnando e non educando più alla storia dell'arte, quando noi parliamo di turismo e cultura per esempio in Sicilia, ecco come si può parlare di turismo e cultura quando i figli dei siciliani forse tra 10 anni, 20 anni penseranno che il tempio non è più se è gesta o se è inunte ma è Mc Donald, ecco allora questo è gravissimo e gravissimo ci vuole anche l'assunzione di responsabilità di padri scellerati che hanno deciso di uccidere il futuro dei propri figli, ecco io mi rivolgo a questi padri a prescindere del potere, a prescindere del discorso economico, a prescindere dell'arroganza di questo nulla e questi padri si devono fare un esame di coscienza perché ai propri figli non solo stanno negando il futuro ma gli hanno tolto quella base esistenziale che solo l'arte, la cultura, la conoscenza può restituire come sogno utopico del valore di essere di ognuno di noi.